Oggi facciamo il tortino al cioccolato dal cuore morbido Potete fare anche i tortini sia al cioccolato bianco che al cioccolato al latte Basterà ridurre la quantità di zucchero da 75 a 50 grammi Per rimanere aggiornato su altre ricette iscriviti e attiva la campanellina Per sformare i tortini è importante imburrare e infarinare bene gli stampini Buon tortino al cioccolato fondente a tutti e alla prossima ricetta Ciao! Ciao!